Situazione meteo di oggi, martedì 12 febbraio. Piogge, rovesci ed occasionali temporali saranno possibili sull'intero territorio regionale, con fenomeni spostamento da ovest verso est. Possibilità di moderate nevicate anche oltre 900 mille metri di quota. Temperature in nuovo calo. Gli impulsi di aria fredda nord-atlantica, con apporto polare marittimo, continueranno ad affluire sulla Sicilia anche domani, rinnovando condizioni di spiccato maltempo. Rovesci anche a sfondo temporalesco potranno coinvolgere le aree occidentali solane, con diffuse nevicate a quota di bassa montagna.